Assessore Mar dolcetto o scherzetto? Dolcetto si vede! Tutto pronto a Mestre Venezia e Isole per la festa itinerante di Halloween. Da sabato 28 a martedì 31 tra zucchero, zucche, bancarelle, stand animazioni, numeri di magie e maschere il divertimento sarà alla portata di grandi piccini. Le performance al via da sabato prossimo a Forte Marghera a Mestre. Con Forte Tenebra organizzata da Venezia Comics che durerà dalle 10 della mattina alle 8 della sera quindi ci possono andare tutti e trovare il tempo di partecipare a workshop, essere coinvolti in laboratori, giochi di ruolo, ci saranno degli stand, gadget, cioè ci sarà la possibilità di fare festa. Quindi il 31 in Piazza Ferretto, Corte Legrenzi, via Palazzo. Per le solite sorprese per i bambini. Manifestazione a Marghera e anche in parrocchia a Carpenedo. A Burano, a Lido, in Gran Viale e in Piazza, Santa Maria Elisabetta. A Malamocco per tornare in terraferma a Favaro nel campo da rugby. C'è un party di Halloween anche alla Gazra organizzato dall'Associazione Comercianti e Artigiani e quindi in tutte le municipalità ci sono manifestazioni dedicate ai bambini perché questa è una festa per bambini che si sta diffondendo e vediamo che è un sistema di aggregarsi, i bambini si divertono, i genitori ovviamente seguono i bambini e questo serve sempre anche a far girare la gente in città e a creare degli spazi di serenità rispetto anche ai tempi che stiamo vivendo. Consetto, scherzetto!